Corse ippiche e clandestine con un vorticoso giro di denaro per scommettere su cavalli dopati che gareggiavano in strade poderali vicino al dolmen di Biceglie. Questo è il quadro investigativo emerso a seguito del tentato omicidio del febbraio scorso e danni del custode di uno dei tre maneggi che all'alba di stamattina è stato sequestrato nell'ambito dell'operazione che ha portato all'arresto di 10 persone. L'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla promozione e organizzazione di corse clandestine di cavalli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Trani e dal pubblico ministero Michele Ruggero, i cavalli che gareggiavano venivano dopati con medicinali che ne avrebbero alterato le prestazioni e che al contempo avrebbero procurato loro danni alla salute. L'organizzazione criminale vedeva tra i propri affiliati anche un dipendente comunale di Biceglie e un dipendente dell'ufficio veterinario. Le corse si svolgevano soprattutto di domenica a margine di esibizioni che erano state regolarmente autorizzate. A Biceglie si dava un appuntamento anche personaggi di spicco della criminalità organizzata barese e foggiana. L'inchiesta ha fatto emergere un altro profilo inquietante. Dopo essere stati sfruttati e dopati i cavalli venivano macellati e le loro carni molto verosimilmente sarebbero finite nella filiera alimentare con possibili gravi rischi per la salute umana, proprio per la presenza di sostanze dopanti.